Felice Maniero torna a essere un caso per i giornali e tutto quanto, ho cominciato a scrivere ancora tanti anni fa e così via, oltre ad aver sentito Maniero in questo momento com'è, com'è sensazione sua? In questo momento è disperato, il tono della voce è proprio quello classico di chi è preoccupatissimo per la famiglia, lui da sempre dice avete scritto su di me tutto il male possibile, non ho mai querellato nessun giornalista e aggiunge molte cose, ve le siete anche inventate, io non credo, abbiamo scritto che è un bandito, che è un assassino e di più non è che potevamo dire, nel caso specifico dico che dopo 20 anni, perché lui si è pentito nel 1995, dopo 20 anni ritira fuori le vecchie storie, non so neanche se qualcuno a parte il Veneto sa chi è Felice Maniero in Italia, quindi non me lo spiego, poi la storia di sua figlia, dico che a suo tempo tutti hanno pensato alla stessa cosa, che si trattasse di una vendetta, ma Carabinieri, Polizia, Magistratura e lo stesso Maniero si sono convinti del contrario, allora o hai delle prove concrete, ma non puoi dire ho sentito una voce in carcere, cosa vuol dire? Il giorno prima poi e poi aspetti 10 anni per dire questa cosa, sinceramente questo modo di fare giornalismo non lo capisco, non hai in mano nulla, è una voce e la metti in giro solo per fare un po' di spettacolo. Anche in passato oltretutto nella vita di Maniero c'erano stati incidenti, morti strane, impossibili suicidi o comunque cose non chiare, come erano state trattate in quel caso? Abbiamo sempre cercato di capire quello che succedeva e poi sinceramente fino a prova contraria mi fido dell'inchiesta della magistratura, mi devono spiegare perché la magistratura prima del pentimento di Maniero ha dato una mano a Maniero, dopo il pentimento di Maniero gli ha dato di nuovo una mano, che senso ha? L'inchiesta sul suicidio di sua figlia, se si fosse conclusa con l'ipotesi dell'omicidio, se fosse stato provato l'omicidio, cosa cambiava per Maniero? Assolutamente nulla, quindi non vedo perché dobbiamo sempre fare il retroscena senza avere nulla in mano, la storia di Maniero è già sufficiente per noi, questo ha ammazzato una ventina di persone direttamente e ne ha ammazzate chissà quando spacciando droga, allora la ricostruzione della vita di Maniero l'abbiamo fatto cento volte, vogliamo scoprire che adesso Maniero fa di nuovo il rapinatore come lo faceva allora? Questa è una notizia, ma non dire dove abita, quanti figli ha, dove vanno a scuola, dove è la sua azienda, questo non porta nessuna novità al telespettatore o a chi leggi i giornali e mettersi in difficoltà della gente che non c'entra niente, gli ultimi figli di Maniero sono nati dieci anni dopo che lui aveva smesso, avrà diritto anche lui, pur assassino, a un momento di oblio o no? Andiamo avanti sempre a ripetere le stesse storie. Comaniero, dal punto di vista di giornalista e scrittore, c'è un rapporto di fiducia, perlomeno un contatto che in questi vent'anni c'è stato, è mantenuto? Sì, c'è sempre stato contatto e rispetto, nel senso che lui ha sempre detto, tu hai scritto tutto quello che hai voluto, io non ho avuto, ho avuto molto da ridire, ma ho lasciato perdere e io ogni volta che parlo con lui ovviamente gli faccio notare le incongruenze, ma come con chiunque altro, anche quando si va a intervistare Galai e lui dice sono innocente, gli dice, scusa abbiamo le carte qui con me, che facciamo? Stesso rapporto è con i maravitosi, io dico semplicemente che il rispetto deve fermarsi al punto in cui tu dai l'informazione nuova a chi ti legge o a chi ti ascolta, punto, nient'altro. Ultima cosa, Maniero dunque minaccia Querela a questo punto e sarebbe la prima volta? Maniero adesso querela tutti, dice non ho mai fatto prima in vita mia, adesso devo difendere la mia famiglia, tra l'altro sto fatto che la polizia sia andata a dirgli che gli danno di nuovo la tutela, che i figli li accompagnano a scuola, va a prendere, insomma lui non è molto sicuro. Poi possiamo pensare giustamente tutto il male possibile di quest'uomo, perché era a capo della banda più feroce e più grossa del nord Italia, ma questo non ci autorizza a mettere a rischio la famiglia.